Grazie consigliera e questo mio intervento si sofferma proprio sul ruolo dell'Unione Europea nella promozione di Assemblea dei Cittadini perché dobbiamo dirlo se siamo qui a presentare questo evento in questa conferenza stampa è proprio grazie all'Unione Europea cioè l'esperimento di Assemblea dei Cittadini che si terrà a Milano il 19 e 20 ottobre esiste grazie a un fondo dell'Unione Europea che quindi promuove, investe nella democrazia diretta e deliberativa attraverso un fondo apposito che si chiama SERV quindi Citizens, Equality, Rights and Values Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori che proprio nella voce della partecipazione civica ha una delle sue quattro linee di finanziamento. Quindi pensiamo che nel settennato 2021-2027 come sapete l'Unione Europea si muove attraverso programmi di finanziamento settennali c'è stato un investimento di 894 milioni di euro stanziati proprio per la partecipazione civica. E questo è importante sottolinearlo perché lo sforzo di promuovere occasioni di questo tipo dove i cittadini possono confrontarsi attraverso un dibattito informato con la presenza di esperti con un contraddittorio con tutte le modalità su cui interverrà dopo nel dettaglio Samuele Nannoni di prossima democrazia è qualcosa che le istituzioni dell'Unione Europea promuovono non soltanto attraverso bandi che permettono alle organizzazioni della società civile di organizzarsi e presentare dei progetti come questo abbiamo detto del fondo SERV ma anche attraverso la concreta prassi istituzionale. E quindi l'Unione Europea ha realizzato delle assemblee civiche estratte a sorte proprio sul modello analogo a quello del progetto che presentiamo oggi. Io questo lo voglio dire perché la conferenza sul futuro dell'Europa convocata nel 2021 è stata proprio l'occasione per permettere a cittadini estratti a sorte poi lo diremo con Samuele secondo un criterio statistico rappresentativo della popolazione beh questi cittadini da tutti i paesi membri hanno potuto confrontarsi sulle materie più strategiche per il futuro del nostro continente quindi suddivisi in panel avevamo il panel 1 un'economia più forte, giustizia sociale, occupazione, istruzione, cultura, sport e trasformazione digitale il panel 2 democrazia europea, valori, diritti, stato di diritto, sicurezza panel 3 cambiamento climatico, ambiente, salute panel 4 l'Unione Europea nel mondo e le migrazioni quindi come vedete sono temi di stretta attualità ma soprattutto rispetto ai quali ne varrà del futuro europeo e i cittadini europei si sono espressi e sono arrivati a delle deliberazioni c'è il discorso del seguito da dare a queste deliberazioni che è ancora lasciato a metà strada ma dobbiamo dirlo che le istituzioni sovranazionali ed europee investono nella democrazia deliberativa questo è una premessa necessaria anche per dare uno stimolo e un esempio alle nostre istituzioni nazionali sulla necessità di investire nella partecipazione democratica come spesso si dice se non si innova la democrazia poi ecco molto spesso le lamentele sulla necessità di rivitalizzare la partecipazione dei cittadini stanno a zero e dobbiamo dire purtroppo che in Italia esistono delle realtà e delle eccezioni sul territorio qui siamo a Milano che sicuramente è un caso virtuoso e nel proprio statuto ha anche la possibilità di convocare assemblee civiche estratte a sorte ma è ovvio che non è abbastanza e che occorrono investimenti nazionali il nostro esperimento vuole essere anche questo un esempio, un modello per dire alle istituzioni beh adesso ne vorremmo vedere delle altre di assemblee civiche estratte a sorte magari convocate anche con la disponibilità delle risorse su cui può contare un'istituzione pubblica e quindi speriamo che questo esempio e modello venga raccolto venendo poi allo specifico di questo progetto l'assemblea del 19 e 20 ottobre a Milano si iscrive in un progetto nel quadro ancora una volta del programma SERV che si chiama Trans Europa Assemblies Assemblea Trans Europa è un progetto che dispone di un fondo totale di 262-105 mila euro e che vede la collaborazione di 5 partner da diversi paesi membri quindi abbiamo Alternative Europee dalla Francia Fundacia Desire Pentru Reflexi che viene dalla Romania Humans dall'Italia nel senso che è un movimento paneuropeo con la sua sede legale in Italia European Alternatives dalla Germania Fundacia Privata dalla Spagna e tutti gli omologhi europei che abbiamo citato hanno organizzato assemblee analoghe a quella che presentiamo oggi proprio sui temi dei diritti quindi dalle questioni dei diritti sul lavoro fino alle questioni di genere citando quindi a titolo di esempio l'assemblea di Brema quella appunto sui diritti del lavoro e quella a Barcellona che si sono svolte entramme nel 2022 il movimento paneuropeo Humans è invece responsabile di due assemblee civiche parte di questo progetto Trans Europa Assemblies una che si è svolta nel dicembre 2022 sui temi del fine vita che ha prodotto delle proposte anche a livello europeo per una regolamentazione europea dei temi del fine vita e del testamento biologico e quest'altra che abbiamo deciso di realizzare a Milano e di farlo proprio con la collaborazione fondamentale dell'associazione Luca Coscioni tanto che l'assemblea si terrà proprio alla vigilia del ventesimo congresso dell'associazione presso l'università statale di Milano quindi questo evento rappresenterà in qualche modo l'evento di apertura e ovviamente tutto ciò è stato possibile proprio grazie alla collaborazione tecnica di cui ci siamo avvalsi di prossima democrazia per sviluppare poi la parte procedurale procedurale dell'assemblea i vincoli progettuali di cui abbiamo dovuto tenere conto per la realizzazione di questa assemblea riguardano il fatto che dovrà essere presente una quota di almeno 7 cittadini stranieri estratti a sorte la presenza di 152 partecipanti che poi abbiamo deciso di suddividere nelle modalità che spiegherà Samuele Nannoni e un budget di 21.598 euro c'è poi anche un vincolo tematico questa assemblea doveva tenersi sul tema su un tema attinente ai diritti civili e da qui la scelta di tenerla sulla genitorialità sociale un tema che nella sua complessità spiegheranno anche le avvocate membri di giunta dell'associazione Luca Coscioni Francesca Re e Alessia Cicatelli nel merito lascio su questo la parola a loro ma era importante spiegarvi anche il motivo di questa scelta abbiamo ritenuto che fossero maturi i tempi per un dibattito informato e bilanciato su una materia dove imperversa oggi una contrapposizione ideologica molto spesso lontana poi dal vissuto delle persone Ciao a tutti, buongiorno ringrazio ovviamente tutti a partire dall'associazione Luca Coscioni e da Humans per l'opportunità di collaborare insieme alla realizzazione di questo progetto dunque a me è la parte l'ingrato compito di una descrizione un po' più tecnica di quella che sarà la selezione e lo svolgimento dei lavori delle due giornate come è già stato detto il progetto si suddivide in due giornate che sono giovedì 19 e venerdì 20 ottobre per ragioni anche di budget e quindi di gestione dei 152 partecipanti previsti dal progetto europeo come diceva Lorenzo abbiamo deciso di ricorrere a una suddivisione delle due giornate di due tipologie diverse quindi una giornata più informativa è una giornata più deliberativa saranno due giornate differenti anche in termini di numero di partecipanti in particolare il primo giorno parteciperanno appunto 152 cittadini nello specifico avremo 146 cittadini italiani o quantomeno provenienti dal territorio italiano e 6 cittadini non italiani ovvero provenienti da quei 6 paesi che citava prima Lorenzo lui ha detto 7 perché il settimo è appunto l'Italia questi paesi sono il Belgio, la Francia, la Germania, la Polonia, la Romania e la Spagna il giorno successivo, venerdì 20 alla giornata deliberativa è prevista la partecipazione invece di 50 cittadini e mantenendo intatta la proporzione quindi saranno 44 cittadini italiani e sempre i soliti 6 provenienti invece dall'estero quindi diciamo al momento sono in corso due tipi di reclutamento quello appunto per i partecipanti italiani diciamo e quello per i partecipanti stranieri per reclutare le persone provenienti dall'estero ci stiamo muovendo sostanzialmente attraverso il contatto con realtà, associazioni, movimenti e organizzazioni presenti nei 6 paesi che ho citato di ogni tipo quindi organizzazioni religiose che verosimilmente avranno una certa idea e invece organizzazioni più di stampo di attivismo civile LGBT, QI+, eccetera che verosimilmente invece avranno posizioni diverse per quanto invece riguarda il reclutamento delle persone qui in Italia ci sono più canali attivi quindi sia canali per così dire mediatici social canali di appunto informazione mediatica di questa opportunità e quindi circolazione anche del link con il form per la registrazione il contatto con associazioni anche in questo caso di tipo religioso di tipo di attivismo sociale associazioni studentesche e poi ultimo ma non ultimo molto importante un tipo di reclutamento più diciamo lettere alla mano ovvero il reclutamento per strada con appunto una lettera che invita le persone a partecipare a registrarsi si tratta di andare letteralmente per strada e reclutare persone a caso questo è importante perché diciamo permette un po' di superare quel bias che un'assemblea su un tema del genere rischia di avere di essere molto più attrattiva per persone che la pensano in un certo modo piuttosto che in un altro dunque questo diciamo per quanto riguarda il reclutamento è previsto che le registrazioni si chiudano il 30 settembre a quel punto avranno tre tipi di selezione innanzitutto verranno selezionati i 146 partecipanti italiani se le registrazioni saranno state come auspichiamo di molto superiori alle 146 unità procederemo con un campionamento statistico e casuale a diciamo selezionare queste 146 persone se differentemente diciamo le registrazioni avranno superato di poco le 146 unità procederemo semplicemente a selezionare le prime 146 registrazioni riservandoci di tenere diciamo le ultime come eventuali riserve per eventuali diciamo ritiri o rifiuti da parte dei selezionati in secondo luogo tra queste 146 persone andremo a selezionare le 44 che oltre a partecipare alla prima giornata informativa parteciperanno anche alla seconda giornata deliberativa infine e ovviamente questa selezione sarà invece sicuramente con campionamento casuale statistico infine selezioneremo i 6 partecipanti stranieri quindi da ciascuno dei 6 paesi che citavo prima vedremo quali saranno state le registrazioni e andremo a selezionare un solo partecipante per paese queste 6 persone come dicevo parteciperanno entrambi i giorni il 19 e il 20 tutti i campionamenti e i sorteggi li realizziamo in collaborazione con una fondazione britannica che si chiama Sortition Foundation quindi capite già dal nome Sortition che si occupa di questo e ci aiuteranno con il loro software ad hoc non a caso collaborano con tutte le principali esperienze di assemblee cittadini in Europa ma anche nel mondo appunto per la selezione e la stratificazione ci aiuteranno appunto nel campionamento per il campionamento come forse avete avuto modo di vedere dal form di registrazione che c'è anche alla pagina del QR Code ci sono vari criteri sia di natura demografica che sociostatistica quindi il genere la fascia d'età il luogo di residenza la condizione professionale il livello di istruzione sia due criteri che poi in realtà sono due domande ovvero esprimere il voto da 1 a 5 in una scala da 1 a 5 sul grado di conoscenza che si pensa di avere sui temi che l'assemblea affronta e sul grado di propensione all'essere favorevoli mettiamola così in una scala da 1 a 5 rispetto ai temi dell'assemblea questi sono importanti perché lo stesso motivo che dicevo prima aiutano diciamo a avere poi un campione finale ai partecipanti che sia bilanciato in termini di propensione iniziale rispetto ai temi dell'assemblea ci tengo a dire sul criterio appunto della residenza del domicilio che questa si chiama assemblea civica dove l'aggettivo civico non deve essere confuso col fatto che è assemblea di Milano perché come spiegava Lorenzo in questo caso civica sta per assemblea di cittadini cittadini che possono essere appunto addirittura abbiamo cittadini che vengono dall'estero altrimenti appunto italiani ovviamente tenendosi a Milano e anche per diciamo questioni logistiche e di budget molte persone proverranno da qua infatti nella sedizione per il criterio appunto della residenza e del domicilio abbiamo inserito le opzioni comune di Milano area metropolitana di Milano anche per avere diciamo una differenza tra chi vive più nel comune principale e nei comuni limitrofi e la terza opzione che è altro che comunque appunto ci aiuta a identificare chi viene fuori da quest'area qua quindi diciamo concluse le selezioni ovviamente partiranno la fase informativa informeremo le persone di essere state selezionate quindi avremo 44 persone italiane che parteciperanno entrambi i giorni 102 che parteciperanno solo il giovedì 19 e i 6 cittadini stranieri che parteciperanno anch'essi entrambi i giorni ovviamente poi i giorni successivi alla selezione li useremo per gestire eventuali ritiri o rifiuti che spesso in questi casi possono succedere e di conseguenza procedere con ulteriori sorteggi per appunto avere le sostituzioni le due giornate come dicevo e concludo sono la prima giornata informativa quindi il giovedì 19 sostanzialmente i 152 partecipanti avranno la possibilità di ascoltare interventi di esperti di professori di persone che portano la propria testimonianza ovviamente con posizioni diverse e bilanciate in questo anche la programmazione scientifica è stata fatta molto bene dall'associazione Luca Corsioni e ovviamente seguirà poi un momento di domande e risposte per dare la possibilità ai 152 partecipanti di avere un'interazione con chi sarà intervenuto e questo servirà un po' a produrre il primo humus da cui partirà poi la deliberazione del secondo giorno il secondo giorno ci saranno 4 tavoli tematici a ciascun tavolo ci saranno tra le 12 e le 13 persone appunto per un totale di 50 cittadini ciascun tavolo avrà il suo facilitatore e attraverso un percorso che come prossima democrazia abbiamo elaborato un percorso dei lavori i cittadini passeranno diciamo partiranno appunto dalle informazioni che hanno ricevuto il giorno prima e attraverso appunto un lavoro di riflessione arriveranno a produrre delle proposte delle idee delle raccomandazioni di tavolo e poi a livello generale come appunto assemblea civica vi ringrazio e poi